I Santi Innocenti. 28 dicembre 2021. Mia piccola Maria, oggi voi celebrate il martirio dei Santi Innocenti che, a causa della mia persecuzione in Erode che voleva uccidermi, vengono trucidati. Giuseppe nel sogno viene avvertito di fuggire in Egitto per sottrarmi alla cattura, ma per i piccoli di Betlemme non ci sarà scampo. Essi in mia vece già versano il sangue del loro tributo. Ecco, il grido dell'innocente grida sino a Dio, dice il Salmo, ma essi ne cantano però la lode, aleggiando intorno al trono dell'Altissimo per l'eternità. Purtroppo, lo sterminio degli innocenti è senza posa, non si è fermato mai dagli albori del mondo. Il demonio abborrisce l'innocenza. La fiuta, la disprezza, cerca di sopprimerla in ogni suo tempo. Voi che rimembrate con dolore i genocidi dell'umanità, soprattutto delle guerre, sappiate che lo sterminio dei piccoli supera a miriadi quello di tutti gli adulti. Essi vengono colpiti e soppressi già all'aurora della loro venuta, nel grembo materno, ancor prima che prendano forma subiscono il loro martirio perché non voluti, e soffrono terribilmente durante la loro uccisione. Quest'abominio scellerato, consumato e sottoposto a sterminio legale. Grida con il suo sangue ancora presso l'Eterno. Si pensa ad essi come esseri non pensanti, un piccolo ammasso di carne e sangue vuoti, mentre posseggono già, dal loro concepimento, sentimenti ed emozioni, comprensione di pensiero. I Dio infonde loro la conoscenza cognitiva, sì che dinnanzi alla loro entrata nella pienezza del regno, devono dare prima il loro perdono agli stessi carnefici. L'abuso sui bambini continua nella loro crescita, già nella prima età, in ogni prevaricazione, in ogni abuso sulla purezza, per lo sfruttamento del lavoro o altro. Non c'è remora di morale che ostacoli la malizia e la perfidia di adulti, che sono gli erodi di tutte le generazioni. Ormai sono una maschera, un involucro d'umanità, che è ancorata e posseduta dal diavolo. L'oltraggio persiste anche negli innocenti che, pur grandi nell'età, sono rimasti puri nel cuore perché minimi, di ogni limite nella mente e fisico, considerati inutili per il mondo che cerca di eliminarli. Sappiate pure che, l'oppressione avviene anche nei vostri paesi occidentali, ove i bambini, i fanciulli, vengono defraudati nella limpidezza della mente, viene loro rubata l'anima, sporcandola con la mancanza di educazione ad ogni moralità. Pur ricolmati di consumismo, viene loro sottratta la fede e l'amore nel Padre Celeste, la preghiera così cara e forte del piccolo. Vengono loro strappate, già da infanti, le ali per volare al cielo. La coppa è colma, il calice dell'ira divina trabocca, e Dio avrebbe già colpito l'intera umanità, colpevole anche della sua omissione e del suo silenzio. L'avrebbe colpita con mano furente se gli stessi martiri innocenti, non impetrassero e intercedessero per questa umanità. Per gli stessi aguzzini, a loro salvezza. Come riconoscere una buona società? Da come tratta la vita dal suo sorgere sino al tramonto, ma ancor più da come ama e cura la vita nascente e l'infanzia. E le madri, che ne danno la potenzialità nel grembo e l'accudimento. Se persiste tale malvagità è perché il mondo è lontano da Dio, gli si è opposto, non riceve più la sua benedizione, poiché è sottoposto al dominio di Satana. Figli miei, ponetevi al servizio e alla tutela dei bambini, come dico altrove nel Vangelo. Chi accoglie un bambino, accoglie me. E chi accoglie me, si avvia alla santità. Vi benedico.